Ciao, bentornati sul mio canale. Oggi parleremo del bonus occhiali. E' una novità. È stato dato l'ok da pochi minuti dal garante della privacy allo schema del decreto che prevede appunto che il Ministero della Salute metterà a disposizione a breve un portale dove si potrà andare a presentare il bonus occhiali. Per quali occhiali? Per tutti gli occhiali che possiamo avere acquistato dal 1 gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2022. Avrete capito fin da subito che il bonus si può andare a richiedere per gli occhiali acquistati o che andremo ad acquistare. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella così non perderete mai le notizie e le novità fiscali, prestazioni agevolate o bonus. Quindi eravamo rimasti che possiamo richiederlo per gli occhiali già acquistati o per quelli che andremo a richiedere. Per gli occhiali già acquistati andremo a presentare quella che è la copia della nostra fattura, la copia del pagamento elettronico, andremo a indicare nella procedura anche l'Iban e ci vedremo accreditati un bel bonifico con il nostro bonus una Tantum da 50 euro. Per gli occhiali che invece andremo ad acquistare andremo a caricare nella procedura la nostra bella domanda e ci verrà erogato un voucher che ci servirà appunto per andare ad acquistare i nostri nuovi occhiali. Al momento non sappiamo se chi ha già usufruito delle detrazioni fiscali sul modello 730 2022 sugli occhiali acquistati se possa comunque andare a richiedere anche il bonus occhiale. Ma questa è una delle informazioni che sicuramente il Ministero ci rilascerà prima dell'uscita del portale. Seguitemi a breve, appena uscirà la procedura andremo a vederle insieme, andremo a leggere pure insieme quelle che possono essere le FAQ per la presentazione delle domande. Qualsiasi domanda che potete avere in merito a questo video scrivetemi con i commenti, auguro tutti una buona giornata, vi mando un abbraccio, ciao! Ciao!